buonasera casugno non ve l'aspettate ma casugno ogni tanto io arrivo scelta buonasera quando ricevi certi regali come ti tocco universe un messaggio celebrativo verrà visualizzato con il nome utente del donatore ma cos'è questo ti tocco universe ma aspettiamo che si collega qualcuno casugno casugno voi non ci siete mai un caso scelta buonasera buonasera meri marco e lia buonasera buonasera siamo tutti toc fate così tap tap nella live buonasera ci siamo in 50 buonasera non mi aspettavate non è l'orario consueto ma io volevo stare con voi scelto buonasera 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 chi sta entrando a chi mi sta salutando siete immensi infiniti scelto ciao come stai tutto bene michelina grazie voi come state questa è una live dedicata a voi quindi non vi racconterò nulla forse parlerò un po di alvarina però parla risponderò a tutte le vostre domande l'importante che non sono domande hot e scabrose scelto buonasera casugno buonasera bene sto bene mi vedete che sono fresco come una pasqua bello come una pasqua scelto buonasera buonasera ciao come stai il conte vi so che siete unici il conte non c'è non cominciate a cercare il conte perché non c'è non è la live serale non c'è ci sono io niente chi sto scelto accontentatevi di quello che vedete 300 siamo no vabbè c'è da 20 a 300 scelto allora approfittate per farvi tutte le domande che voletevi più caso mio sogno solo sono libero e posso ti vedo non ho capito ti vedo dimagrito scelto più sicco sogno scelto sì il conte c'è non ho detto che non c'è c'è ma non apparirà in questa live apparirà domani nella live di facebook già ve lo preannuncio domani alle 21 no alle 21 alle 22 saremo in live su facebook domani il conte apparirà lì qua non appare c'è il conte non ho detto che non c'è ho detto non c'è per la live ma il conte è onnipresente scelto buonasera lucia mentosa che di sera tu sei sparito ma non ci si chiude niente però di pomeriggio ci si scelto allora mi collego ogni pomeriggio il conte dove ha comprato il piumone chissà a me me lo chiedete so che ha dato in cambio di quel piumone due miei orologi scelto mi venni cori di banino di pio questa sera c'è calare e calici c'è a dire mi mandano i morti di fame mi mandano anunzio conte scelto che io ti fa un sconto tu riccillo monduiccia mia buonasera giambi che ormai non mi duetti più nendi non mi fai duetti non mi fai nendi ormai niente una volta eri il mio duettatore ufficiale ora niente siete pulitissimi avete una casa fantastica scelto e domani che sabato no vabbè domani mi devo mettere a quattro piedi baciamo le mani baciamo le sicilia e tonno mi fai pagare magari chi ricapigliato faccia gratis no no ti fa pagare di meno tu c'è a dire mi mandano anunzio al mando tu sai l'amicito c'è a dire anunzio al mando io voglio anch'io conte dove l'hai presso mena non tu puoi dire scelto non tu puoi dire ma loro brigate bulli non la fai più allora tutti io a faccio ogni gnonno scelto perché a me a me mi piace smerdarli pubblicamente io la farei ogni giorno però devo trovare i bulli che hanno dei video dove si vede il loro bel faccione o la foto profilo perché se insultano con i profili senza foto e senza video non la posso fare scelto devo trovare il cretino che insulta con la foto profilo con qualche video appena lo trovo io faccio la rubrica dei bulli parte 3 o parte 4 non mi ricordo manca che parte sono arrivato però faccio scelto mia mamma e mia sorella non si vedono più nei video perché hanno deciso di non apparire stanno bene sono a casa loro ogni tanto vengono qua o noi andiamo da loro ma non fa non non li vedete più perché hanno deciso di non apparire sono state una parentesi dei morti di fame come adesso come vedete si è aperto un'altra parentesi che ce l'ha nuore figlio del conte scelto quindi ora si apre un nuovo capitolo dei morti di fame ma anche loro saranno una parentesi prima o poi svaniranno nel lettere anche loro scelto può essere o può darsi di no chi lo sa grazie loriana scelto perché da buona siciliana che vive a 20 miglia imperia vi amo magari odiamo amico mio perché non mi fa un video messaggio per farmi salire non lo posso fare giambi perché come me lo chiedi tu me lo chiedono altri centomila persone se lo faccio per te lo devo fare per tutti perché purtroppo la legge vale per tutti certo tu vedi se io faccio video per far salire anche a mia sorella a mia cugina che ne so ai miei parenti i miei cugini lo vedi tu no non lo posso fare manco con loro non lo faccio manco con i miei familiari per non creare un precedente quindi voi vi dovete mettere nei nostri panni non è che io tu facessi però tu fammi duetti con mia fammi duetti che io poi scelto poi io ti commento scelto tu fai duetti non ci racconti come hai conosciuto al conte scelto ho conosciuto nell'ambito lavorativo un zuttaio scelto perché io appena l'ho visto mi innamorai ma chi è questo bello scelto chi è io gli ho scritto su facebook e lui mi ha risposto dopo due giorni scelto e niente e poi ci siamo innamorati poi io appena mi vissi si innamoravo magari non è certo innamoravo mi innamorai io si innamoravo idro scelto zuttanti eccetto qualcuno doveva fare la mossa no affici io prima buonasera zaccaria buonasera buonasera siamo in 200 ragazzi io non me l'aspettavo vi ricordo che siamo su tiktok e dovete fare così tap tap mi dovete schiacciare i brufoli voi stessi così 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 la live cresce andiamo nelle migliori live di tiktok uno come a mia può essere in dalla live a così non le migliori live a ghiri no scelto scelto prezioso ha fatto il conto allora ma risponde una bellezza come a mia un uomo come a mia ci ho rispondito dopo due giorni che tra l'altro in quei due giorni a me mi è salita la febbre lui voluto fare il prezioso poi quando mi ha risposto mi ha detto certo in effetti sei un bel ragazzo ci possiamo vedere per un caffè se no perché mai macchina la frevi dopo buon scelto ci sono ora devi aspettare tu almeno dieci giorni non devo cambiare mai frevi e poi ha aspettato lui perché questa è è la ruota della vita la ruota gira c'è un buco a me un buco a te scelto non si fa vero saccio caruso lo so voi lo dovevate dire a lui no a me poi l'ho fatto aspettare io per la febbre ma idro mi faccio perché poi lo ha visualizzato subito e mi ha risposto dopo due giorni non è che dice no vabbè sono passati due giorni perché lui non se n'è accorto no idro visualizzato subito e vi scurare tu io non ho tempo che ma rispondi io scelto è una bellezza come la mia grazie melania per questo cuore ti amo bella quanti anni ha il conte 78 quasi 78 io ti facevo aspettare una settimana anzi dopo due anzi dopo due giorni non ti può lamentare ma picchina per chi sia così picchi ci pensava allora ci pensavo o che si doveva liberare da qualche altra situazione scabrosa può essere aveva no ma il conte è una persona scelta può essere impegnato lavorativamente parlando che si mangia anzi ma chissà allora il conte è a dieta non lo so che mangerà lui cose scaldate miristi non lo so io bello pisci belluno bello pisci bello al forno c'è tutto il limone ma non lo so che pesce che è un'orata e uno sgombro no sgombro no un'orata una spicola non sono saggio non se mi vedi scelto che ti viro nadia ti viro nadia scelto come vi siete conosciuti e l'ho detto ora giada io ti amo tu mi ami ma l'ho detto ora nell'ambito lavorativo poi ci mando messaggi di facebook non ma risponio subito e poi scelto e poi ma veramente 78 anni conti c'è come io ne ho 48 siamo attempati però ancora belli va certo una caniviri dici ma che bellezza e poi sente 78 48 dice vabbè leggi sto leggendo ragazzi come mai la live adesso perché volevo stare con voi perché non posso fare la live assorario con voi perché non la posso fare scelto dopo quanti anni vi siete sposati un anno dopo vedo dopo 12 mesi io e il conte siamo convolati a nozze scelto siamo insieme da da tre anni e ora siamo per festeggiare due anni di matrimonio scelto non ne dimostro 48 ne dimostro 38 ma ora io ne compio 94 poi ne scemo va bene ognuno era sposato ma chi il conte era sposato i tempi che furono poi si è sposato con me vi siete sposati al comune certo grazia nigno non ti puoi sposare in chiesa il matrimonio omosessuale in chiesa non è non è ammesso non si può celebrare la chiesa non considera l'unione tra due persone dello stesso sesso scelto il conte ti ha preso anche per la gola è bravo anche in cucina comunque ne fai tre di anniversario tre anni di anniversario due di matrimonio e tre che siamo insieme chi c'è c'è se è l'anniversario di matrimonio due anni no ci siamo sposati nel 19 siete due persone stupende grazie grazie ragazzi fate così però siete 200 è possibile ancora siamo a mille like a cui sia da fare mentre che voi parlate con me e scrivete mi ascoltate così nello schermo dovete fare tap tap nello schermo non è capellata scudari tra una cosa e l'altra perché non salutate mai ho chiesto un saluto mai lo fate giovanna ma proprio a te ti rispondiamo continuamente giovanna rubera tu perché scrivi sempre sta cosa che non è vera che a te ti rispondo sotto i video ti scrivo ti salutiamo in live hai un poco di mania di protagonismo gioia del mio cuore io ti amo tu mi ami ma io ti rispondo sempre se tu poi non vai a leggere le risposte non lo so ma io la rispondo sempre dove tu mi scrivi come so che scrivi sempre sta cosa e quindi io subito corro e scappa risponderti ma se tu poi non leggi le risposte io che ci posso fare io ti amo tu mi ami però poi andiamo a chiappare scetto andiamo a chiappare io e tu perché tu dici che non ti rispondo mai a me non arrivano non è vero come non è vero e tu vatti a vedere dove tu hai scritto i commenti e vedi se c'è una mia risposta però appena c'è chi facciamo mi fai un bonifico di 100 euro perché se ti sto dicendo così e così può stare tranquilla puoi stare tranquilla con mia scetto perché io non te ne dico bugie ti sto tiptando brava tiptami tutto scetto tutto paro ditto come mai non si vedono mai i vostri cagnolini siccome non si vedono si vedono scetto ciao cadiuzza si sor surprise surprise ho fatto mille tap tap un bacio lometri grazie angela rodella bella vado a preparare ti mando già vi sta dietro c'è mi apro la live alle 20 stiamo mangiando l'apro alle 21 no no ancora devo sparecchiare l'apro alle 22 ciao io sono buonanotte alle 23 già state rummenni ora che ora che ore sono le 6 e 25 sto andando a preparare a chi ora le fare sta live questa live a che ora la devo fare io non lo so ditemelo voi che non siete mai contenti vi amo però vi amo è l'amore che mi spinge l'amore verso di voi che mi spinge a stare qua picchi guardi non siete mai contenti però a me non mi hai salutato ciao alfi a torrissi giusto cinzia tu che ridi giusto cinzia cioè io a queste solari la faccio siete impegnati non lo so io ciao cadiuzza ora torno voglio vedere se è vero ciò che dico dov'è il conte dell'amore mio allora vai a vedere il conte dell'amore 2 non c'è se lo vuoi vedere lo trovi domani su facebook dalle 22 non muscicare i capi chi non c'è caccia per una bellezza come a mia contentati di me casugno io quello che ti rispondo nei messaggi io scelto a me non mi hai salutato quella yolanda spambinato bella certo che t'ho salutato bella grazie e mena grazie allora fosti sciamma famigli che c'entra rino il figlio del conte ha 36 anni il conte si è sposato 30 anni fa che c'entra si è sposato 30 anni fa poi è finito il matrimonio niente noi stiamo insieme da tre anni al suo figlio 15 16 anni fa chi c'entra ma c'è ma per chi si dà così limitati per chi mi fa un saluto anche a me ciao filippa francesca bella troppo forte se non c'è grazie siete forti un bacio un saluto tesoro grazie tap tap fate così non c'è quindi che mangi tu chissà c'è un bellupisci non non so se una spicola onorata non lo so non sa ci fonte una pigliau però bel pesce al cattoccio al forno bello siete 200 fate tap tap siamo quasi a 20.000 like grazie state facendo 20.000 così scelto ma andate a mille per un cuoricino qualche cosa che sono innamorato dimostratemi che siete innamorato io voglio tanti saluti per la mancanza delle live infatti lucia ma ma tu che commini gioia del mio cuore io ti cecco in tutte le live e tu niente grazie per queste rose 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 per me mi saluti il cuore certo che ti saluto cuore mio roberta roberta già da massimo 82 021 mi chiedo mettermi un poco più lungo bella bella state solo da tre anni sembra tantissimo più tempo perché siamo noi due anime gemelle che si sono rincontrate scelto sicuramente noi nella vita precedente stavamo insieme il conto poi siamo tipo due atti nella vita nella vita prima può essere che il conto era una bella donna io ero un bel scelto nella vita prima ancora io ero una bella donna ecco poi nella vita prima ancora eravamo due belle donne non si sa scelto l'importante essere anime gemelle rincontrarsi su ogni vita scelto così funziona baruzzo ma upisci spatola non me l'hai non me lo hai più fatto ma ricchi devi fare upisci a tia non l'ho capito non l'ho capito questo boh scaricato da poco ti tocca una curiosità le immagini a pagamento sono offerte per chi le riceve ma quali su sti immagini a pagamento non non l'ho capito che vuol dire immagini a pagamento vuoi tu una foto mia e me la paghi scelto ti mando la foto dei piedi che foto vuoi che cavolo tutta foto dei peri allora chi vuole la foto dei miei piedi 100 euro per favore vi mando la vi mando la post pay mi fate ricarica di 100 euro e vi fa scrivere una bella foto dei peri scelto domani ci andate da pio pio no no domani no non c'è stasera te lo vedi che andrà del fratello è como dice che stasera ciao nadia come non diamo scelto cadiamo tu sei la la prima in assoluto nel mio cuore bella mi fa male il dito nunzio continuate 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 non vi lamentate ne avete dieci dita appena veni stanga uno usate l'altro vi decida vi ti voglia stavo dicendo stasera c'è tu camuviro grande fratello cacciassi delia durano stasera c'è tu sarà chi cummina da soleil la live a quest'ora riesco a vederla vi voglio bene sole e luna una stato cuore mio cadeciccato come una uglia pezza c'è tu 100 euro per favore peri ma perché scusate la foto dei miei piedi allora mi hanno detto che le foto dei piedi le pagano fino a 300 euro 150 180 ma ma anzi vi ho fatto un prezzo modico perché siete i miei follower 100 euro perché poi se non sei il mio follower vuoi foto dei piedi 250 scelto perché la io puliti peri non ho non ho occhi di pernisce non hai ucadri la io belli vellutati poi sono rose i scelto la forma delle dita è fantastica e a io a io un alluce scelto quindi ci vali 100 euro foto dei miei piedi sono belli da vedere chi le vuole vedere 100 euro ma clarissa come sta buona a proposito di clarissa buone clarissa a proposito di clarissa il conte gli ha colpito ancora gli ha derubato una cosa a clarissa però ve la faccio vedere domani mattina domani mattina vi giuro che ve la faccio vedere se lo dici tu allora se lo dico io non è che lo dico io chiunque ha visto i miei piedi anche il conte il conte è la prima volta che ha visto i miei piedi ha detto mamma mia ci ma può essere questa bellezza ci sembra grazie se lo so che sa no turici i piedi come ci si peri anche lui è rimasto estere fatto da questi piedi quindi non è che lo dico io tutti quelli che mi hanno visto magari a ma quando io vado a mare perché ho le infradito io vedo che tutte le signore si incantano nei miei piedi non lo so perché già mi dà lì una mia iperi non lo so e io ho scelto e quindi ho detto da quel momento ho detto sicuramente avrò dei bei piedi e quindi 100 euro quanta differenza di età avete tra te il conte 30 anni sempre 30 perché lui 78 io quasi 48 se come no scelto vediamo da 9 farò vedere i piedi l'ho detto nell'ultimo video se vuoi ecco mi ho controllato non esiste proprio non ci sono risposte adesso ti mando dopo ho messo mi piace giovanna tu mi pare casi un poco ubriaca gioia perché io ti ho risposto sempre a te ora ti faccio screen e ti mando non può essere o sei tu che li cancelli le risposte può esserli scelto stavo dicendo che giovanna mi interrompe io l'amo ma lei mi interrompe ho fatto l'ultimo video dove ho risposto alla rizzotto dove ho detto che farò vedere i miei piedi quando arriviamo qua su tt tt tocca a un milione di follower siamo vicini siamo 165 mila follower a un milione io faccio avvenire i peri scelto gratis se se ora ti mando io amore non mi chiamare amore quando mi tu menti tu menti per attirare la mia attenzione perché io sogno tu sai che che io un debole per te tu menti perché io ti rispondo sempre a te scelto tu 34 e il conte 53 per me se però non hai amma la vi 52 conte luigina ciao tesoro come ti senti buona buona senti teresa saluta mimì ciao vincenzo giusto lì bello ciao ragazzi che fate che state cucinando pistasira dicite a mille qualcosa approfittatene ci avete una bellezza come mia qua davanti ditemela qualche cosa no voglio per grazie grazie a nigno non c'è il conte ma 100 euro per vederli te te li ha dato il conte se è venduto qualche ora che c'entra il conte c'è avuto l'esclusiva gratis che c'entra ah un conte mi va a dare la mia 100 euro più vi riperi cioè non lo so non ciao davide bene grazie tu ma per me 32 e lui 62 ma vicina ci sei c'è chi cucina per noi nunzio è quella che sta cucinando per voi teresa oggi giornata brutta terapia perché è brutta ciao buonasera davvero come state saluta bene grazie monica ciao tu cosa prepari un nendi carne sfoglia con prosciutto e besciamella buona zucchina griglia melenzano e petto di pollo caso ogni turno ciao lucia calamaretti fritti e verdure scala ma vi trattate bene altro che morti di calma in cano non ci siamo morti di fame ma natela qualcosa ogni tanto casignola per i pacchi quella lavora ma natela nunzio mi fai mi fai il piacere che mi leggi scelto sole e luna di solleggiarci quattro in ora che ti legge peperoni rostiti e prosciutto siamo a dieta anche voi come il conte ma ciao san giuseppe 25 rosaggio è sanno quella s sta pensando comunque s giuseppe 25 io 28 il conte 62 ma io spaghetti contorno acciughe olive pane pane atturrato chiamo dica musica di sopra la mollica abbrustolita il pane atturrato mi salti sempre come ti salto sempre no davide vigilito 7 caso che ti salto pastine in brodo ti stai mangiando tuo cuore ho detto che mi fa piacere che mi la grazie scelto va bene la patatina e polpette tu scelto nadia nadia mi aspettavo che mi dicevi che mangiavi salsiccio stasera scelto patatina e salsiccio scelto al conte piace grande il fratello ma in mette a ridere quando vira cipriani quando vira cipriani si amo vai di là per favore ti si sente grazie puoi salutare mia moglie simona per favore che vi ama ciao simona moglie di davide ciao ravioli coricotte spinaci mi state facendo bene di fama ancora è presto basta non mi interessa più quello che mangiate stasera basta comunque ti ho mandato gli screen su facebook giovanna appena tu hai farloccato gli screen non saccio chi gioca io vengo finato casa e ti riempio di baci io te lo dico appena tu le farloccati io vengo fino a gioco e ti riempio di baci te lo sto dicendo ragazzi siamo fermati il tap tap fate a cucina lo dovete fare solo quando ve lo dico io questo non costa non costa non è che vi sto dicendo mandate regali mandate niente vi sto dicendo di fare così che è gratis ci vuole un po di olio di gomito oggi coppa ci sono infatti infatti giovanna infatti ciao da dove avete comprato il più o meno grigio con le rose non lo so l'ha barattato il conte con con due miei orologi quindi non niente non lo so poi lo chiederemo domani in live su facebook non so perché non fai un raduno con quelli di catania che vi vogliamo vedere miriana ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando tranquilla che accadrà di tutto tranquilla dove c'è il conte annunzio può stare tu serena a breve a breve faremo un incontro cazzo un amici ciao zizzo da ritirasti tu sei international in the world certo sono anche il re della casa il re della patata a catania certo tutti cercano la mia per patate a catania e perché hai i patati più belli di tutta la sicilia che dico della sicilia tutta italia grandissimo bello maria tesoro come maria tesoro avete una casa grazie grazie domani dobbiamo fare mi hai fatto uno schisciotto di ponte va bene domani dobbiamo pulire tutta casa che vi mangiate stasera ciao leonessa non so cosa ne pensi di alex soleil che ci mangia tutto lui ma penso che alex sia omosessuale soleil che frega niente di alex sinceramente per me non unzio per me non unzio cosa per me da un po di tempo che non si vede tu sorella come sta sta bene sta bene grazie l'albero non lo fate giovanna ma è presto e pillalbero gioia ma su sarduma per l'immacolata a dicembre e ora lo facciamo certo verso il 23 dicembre e poi domamo a mi hai messo tu a me nel tuo whatsapp brava certo ciao come stai io bene 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 grazie davide anch'io sto bene 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 dove li vendi le patate nunzio a catania itinerante sono nunzio ogni tanto aiuta aiuta le conta cucinare no no quello è compito suo no io mi si giro si radio com'è aspetta radio su san 94 ti leggo sì ti leggo però siete tanti io ho già fatto l'albero e per sempre per i miei figli mai fatto così presto ma certo se no anticipiamo troppe i tempi carusi non ogni cosa al suo tempo ciao razio io mangio cioè già il mio dovere io lo faccio ah io io mangio scelto intanto ti ascolto gioia io scappo un abbraccio aspetta una notizia ma sei dato una bacia ti distenno giovanna ha fatto ciuri di spettacolo e ti distenno ora però io diamo l'osso io l'amo questa donna che devo fare questa donna a me mi crea mi crea tutto tutto scelto però io sono innamorato va bene giovanna votini ti amo magari io ti abbraccio scelto appena si andiamo chiuttando appena guardo questi screen tuoi labbero si fa l'otto dicembre no si accende l'otto dicembre ma si può fare anche prima no tre mesi prima qualche giorno prima e poi si accende l'otto dicembre scelto ah tu lo fai l'otto dicembre emiliano ma grazie per i tap tap grazie grazie patrizia amicina bella ma a proposito giornatini miei che siete 146 ma siete sicuri che tutti voi vedi che mi salti per salutarmi ciao michelin ad amato ma siete sicuri che tutti voi avete messo il segui come siete ingiunati voi ci amate siete innamorati guardate i video commentate mettete i cuori ma non mettete il segui dovete mettere il segui il segui si mette entrando nel nostro profilo sotto la foto c'è un tastino rosso ho scritto segui è italiano segui ad ammungirichidru a così diventate realmente i nostri seguaci perché a voi non vi costa niente non si paga ma più mia caso di international in the world più segui ciò e più sono international in the world è importante quindi fate attenzione a questa cosa controllate se avete messo il segui scelto io l'ho fatto ripeti cosa ripeto dove dovete entrare nel nostro profilo sotto la foto c'è una foto rotonda c'è scritto c'è un tastino rosso dove c'è scritto segui la da ammungiri dovete schiacciare quel tastino segui così diventerete i nostri seguaci scelto realmente no io ti seguo ti seguo poi apri profili niente non mi seguo completamente io vi seguo e fate divertire tanto grazie quindi fatelo se non l'avete ancora fatto fatelo zizzo tu mi segui o si ingiunata magari tu zizzo ma non mi avete mai salutata french m060 ciao bella non c'è dopo una vita che vi seguo ormai siete di famiglia grazie la sole luna ma ci segui che guardi video o mi ti segui perché sono due cose diverse grazie claudio per le rose grazie su luci rosi mi mannassi tu che quando c'è il conte faini mi manni mille cinquecento a mia su luci c'è claudio io anche dal conto voglio salutare non c'è miliana se tu ti colleghi domani su facebook dalle 22 alle 24 c'è il conte ti faccio salutare te lo prometto a claudio quattro ne mandate grazie grazie zizzo per le tue 18 rosse vedi claudio a zizzo fu più generosa di tia oggi scelto ma lui è il conte mi fate morire non sogno io conte il legno ecco il legno tu sarai una che non mi segue perché se tu dici che io sono il conte non mi segui completamente tu il legno scelto a io sogno conte ma grazie patrizia grazie ragazzi il legno ha detto che io sono il conte ma può dire che la scelto non ci sono ciao miriam miri di underscore am 88 grazie zizzo ne ha mandato 36 ne ha mandato un fascio infatti se non mi salutate non vi seguo più natina 21 a 0 ma tu che mi scrivi non vi seguo più ma tu segui un muggisti tu segui no non sono raffreddato c'ho sempre il naso sotturato però non lo so che cos'è ragazzi dai sempre un naso intuppato però non sono raffreddato voglio capire perché il conte perché è un conte c'ha anche uno stammaraldico ragazzi è conte ma che c'è il perché conte di dinastia reale scelto per il compleanno che vuoi regalato dal conte il conte mi deve regalare quest'anno il dodo ci risa appena tu non mi spundi co dodo e meglio che di nivare a casa quindi non lo so il dodo costa lo sapete lo saccio su chi lo spenderà quei soldi non lo so secondo me si sta lavorando qualche commessa di dodo perché quello cerca di imbrogliare qualche scetto non imbrogliare nel senso far valere le sue tesi in poco fuori dal mondo però scetto ma a parte il regalo del conte ma voi ci state pensando invece al vostro regalo per me per il 24 dicembre ci state pensando già perché io aspetto signorina per i pacchi con tutti i vostri pacchi io ve lo sto dicendo non mi scrivete un 25 c no non si auguri non si auguri niente se non mi facete un regalo e non buttate i panettoni perché ci siamo sotto natale ci regalo un panettone non ne voglio panettoni non ne voglio voglio cose scelto cose più personali più scelto il conte dove non c'è domani domani lo vedete su facebook l'ho baratto a qualche altro no non c'è io voglio io voglio a te voglio a ti a mia voi ma cazzo io scelto ma il 25 è natale il 24 io li faccio dicembre 24 dicembre è il mio compleanno scelto che vi seguo assai assai scelto ma tu sei comitisti proprio hai premuto il bottone o niente non ce lo fai gli anni il 24 dicembre si conte ale 1 ti voglio sposare conte ale 1 bello del mio cuore non so se sei mascolo o femmina sei maschio o femmina ma se sei maschio e c'è scritto conte io già di conte ne ho 1 e sono sposato con lui non è che posso diventare bigamo no no scelto io già mi sono sposato con un conte ah maschio sei ma non posso perché già l'hai 1 sei di donna magari potevamo fare un matrimonio con un uomo un matrimonio con una donna scelto ma due uomini no poi un altro conte per giunta no sei bello come lui anche tu sei bello come il conte mio bello ciao gerardina come come che me frega no vabbè non so cos'è il dodo è un bracciale è un bracciale ragazzi il dodo anche la mia nipotina gli fa un annetto il vento fa un annetto che bella che bella no se devo essere grazie no il tuo conte è bello e simpatico ah il mio è bello e simpatico tu sei poco a pussi poco bruttarello antipatico no non ci rispondi please cosa loredana non l'ho letta scusa cosa da quanto tempo siete sposati due anni quasi ma perché non mi saluti ciao oraccio 27 ti ho salutato prima non ci sei scarugnato sotto natale fa capi davvero miriana si ne hanno nascuto tutti gli anni tutti gli anni se ne escono vabbè ma io te l'ho fatto più grosso vale per natale perché no niente io ne voglio uno per il compleanno e uno per il natale no questa cosa è più grosso non mi non mi ha piaciuto mai a mia mai e poi il conte il conte è perso quest'anno perché 24 è il mio compleanno 25 è natale ma è anche il nostro anniversario di quanto ci siamo messi insieme quindi c'è compleanno natale anniversario di quanto ci siamo messi insieme e il 28 è l'anniversario di matrimonio quindi mi ne affari 4 reali scelto io il 27 anche a me ne fanno uno e non è giusto gerardina non è giusto ce l'hanno a finire questa cosa però sa fare un mutuo infatti infatti mi devi fare 4 regali che c'è paola dimmi scelto 4 regali ma se non mi leggi loredana non sa ci sono già operatore mia bella da quanto tempo state insieme 3 anni e tu non ne fai regali a lui anche io ne faccio a lui ne devo fare 3 ma lui a me 4 perché io faccio il compleanno in più di lui scelto il 28 fa gli anni mamma 83 auguri allora la tua mamma ancora manca un po' di tempo però ma pure tu li devi fare scelto che faccio magari io ma intanto lui me ne deve fare 4 ma sei maritato con il conte scelto Andrea qui tu mi pare che sono maritato mi pare non te lo so dire per certo però mi pare che è così non ti farà niente il conte non lascia stare che mi farà perché ciurissi un bracciale con quattro ciondoli sarà la soluzione giusta assolutamente no Daniela assolutamente no Daniela non dare queste idee meno male che lui non c'è non ti sta sentendo non dare queste idee per favore grazie non è che ho accimato a rovinare quello che ho costruito io da un anno perché da un anno che gli dico mi devi fare regalo compleanno regalo per Natale regalo anniversario di quando ci siamo messi insieme anniversario di matrimonio 4 sono 4 quindi non mi rovinate quello che ho fatto scelto non cominciate a dargli idee fuorvianti già che quello pensa risparmio poi arrivate voi e siamo messi bellissima data il 28 dicembre quest'anno mi sposo anche io il 28 dicembre come 19 è brava auguri allora auguri per quando sarà scelto scelto che ho sogno viziato io Loredana non passa la tua domanda allora te lo posso dare per certo la tua domanda non passa perché non riesco a leggere la leggo solo quando tu scrivi mi arrendo non mi rispondi già ti ho scritto solo questo ma la domanda se la fai sempre lo stesso modo non passa non so perché ci sarà qualche parolina che ti tocco non piace non la fa passare si dimmi rino hai figli nunzi ho scelto quattro ma io scelto ne ho uno di 29 anni già l'ho detto non impazzisci che non paga niente con te no faccio ma la compazio ma che impazzisco allora c'è un figlio di 29 anni già l'ho detta questa cosa c'è uno di 18 una di 10 una di 4 si il conte mi sorprende devo dire scelto qualcosa l'ha fatto in questi tre anni scelto non mi posso lamentare non è vero scelto che è vero ma dov'è il conte il conte è impegnato rino ma tu ti senti coglione o sei coglione ti rispondo così tu sei coglione o ti senti coglione non ci credo che hai figli nunzio laio e allora rino se non è un insulto e sei c'è la tua mente è un pochino fuscata perché ti ricordo rino che essere omosessuali non significa sentirsi uomini o sentirsi donne significa essere attratti dallo stesso sesso quindi se io sono un uomo sono attratto da un uomo ma rimango un uomo perché se mi fossi sentito una donna magari avrei fatto un percorso di transizione quindi sarei stato transessuale e sarei diventato donna quindi io sogno mascolo che coglioni e che siciliano catanese mi capisce mascolo che coglioni che mi piace mi piacciono gli altri maschi punto ok e ti ho risposto volgarmente parlando perché quando ce l'ho ce l'ho e difatti io non percepisco questi che non accettano il suo il suo corpo ma tu non devi allora tu non devi né percepire semmai concepire si dice io non concepisco ma tu non li devi concepire tu li devi lasciare vivere perché se chiunque non si sente a proprio agio nel corpo dove è nato ha tutto il diritto di fare una trasformazione fare un percorso per sentirsi bene con se stessi e tu io qualcun altro non siamo nessuno per dire questo è giusto quello no tu sei eterosessuale sei sposato sei con una donna nessuno ti dice niente se io sto con un uomo tu non mi devi dire niente se io sono un uomo che divento donno sono una donna che divento un uomo tu non mi diri nenti perché non sono fatti tuoi ok questo è linea generale io sono pane pane a vino a vino rino io ti sto parlando da amico come se tu sei mio amico mio fratello io a mio fratello così gli parlerei grazie grazie Lucia Mendoza grazie 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 Maria bravo annunzio quando ci vuoi ci vuoi eh Carusi bravi annunzi per la risposta ma chi siamo noi per giudicare ragazzi un giorno verremo giudicati un giorno tra tantissimi anni speriamo se vuole il Signore verremo giudicati da Lui sì sì Rino sì l'ho capito che non era un insulto ho capito che proprio sei ignorante in materia ignorante in materia significa che ignori l'argomento eh non è un insulto manco il mio sì ma il Conte ci deve dare una lezione devi fargli spendere 100 euro a Giuse proprio 100 euro io ho non chi tu spendi proprio sì ma non è una domanda Rino guarda non è una domanda se tu ecco ecco io non non vorrei fare adesso alcuni esempi che non c'entrano nulla ma è come se io al tuo gatto che è un gatto gli dicessi ma tu ti senti gatto o cane perché sono due cose diverse capito c'è io uomo c'è io uomo tu mi hai scritto ma voi vi sentite uomini o donne cioè ma tu davanti che figurai un uomo no e io mi sento un uomo se avessi avuto eh magari una persona che stava facendo un percorso transitivo transessuale allora ti avrei detto io mi sento un uomo anche se sono in un percorso perché sto perché sono nata donna e adesso sto transitando nel diventare un uomo e poi ti ripeto non sono domande da fare Rino perché alla fine a te che ti interessa se io mi sento un uomo una donna se io vado a letto con un uomo che ti interessa a te deve piacere ti deve avvicinare le persone per quello che sono per in base a se vanno a letto con un uomo o con una donna se si sentono uomini o donne questa fa parte della sfera privata ok infatti non c'è ragione io voglio capire perché ci sono uomini che vanno con trans tanto vale che vanno con donne ma quello ti ripeto Rino non è una cosa che ti devi spiegare tu può essere un'omosessualità depressa nel senso sono omosessuali ma magari per la società per il contesto familiare non hanno potuto esprimere la propria natura e quindi sono omosessuali repressi può essere che che gli piace un corpo femminile con un organo maschile anche quelli sono gusti sessuali non ti devi fare domande che non ti appartengono capito Rino cioè devi pensare solo il mondo è bello perché è vario tu sei un uomo ti piacciono le donne ci sono gli uomini che gli piacciono gli uomini ci sono uomini che essendo nati in corpi sbagliati vanno in transizione e diventano donne ci sono uomini che magari reprimono la propria natura e poi gli piace vedere comunque una figura femminile con un membro maschile ma fa parte della vita fa parte della società fa parte della natura l'omosessualità vi ricordo è natura ragazzi non è una malattia non è una perversione e non ci dobbiamo fare domande sulla naturalezza delle cose a meno io la penso così poi onestamente non sapevo che il conte fosse famoso ho cercato e mi sono imbattuta che vuol dire il conte non era famoso assolutamente Teresa il percorso per una persona in transizione non è mai facile c'è infatti c'è prima di un percorso farmacologico un percorso di operazioni chirurgiche c'è un percorso psicologico c'è un percorso mentale bravissimo non c'è una grande maturità d'animo grazie Chiara sei giovane ma mi piace tanto come parli grazie Tina Perugino l'omosessualità è sempre esistita fin dei tempi antichi ragazzi l'omosessualità esiste anche negli animali uno studio scientifico ha a parte che uno studio scientifico recente non mi ricordo la fonte ha affermato che l'omosessualità è genetica quando ci sono dei geni che si attivano durante la gravidanza durante 9 mesi ci sono dei geni che si attivano in alcuni casi in altri casi no ma è genetica è DNA fa parte allora perché tu sì io no perché come c'è la probabilità che il bambino nasca maschio o femmina c'è la stessa probabilità che il bambino possa nascere omosessuale o eterosessuale uguale fa parte della genetica quindi non è una malattia non è una perversione non ci siamo nel 2021 cioè ormai i tempi in cui si pensava era una malattia i tempi in cui si pensava si poteva curare i tempi in cui si pensava che era solo una perversione mentale ormai sono finiti verissimo non sta a noi dare una spiegazione del perché è una cosa naturale esatto ciao Giussi Santoro ti ascolterei per ora è molto vero ciò che dici ma poi cos'è l'omosessualità per me sono persone che si amano ma brava Lucia ma poi io dico noi conosciamo Fabrizio, Maria, Luigi, Giuseppe per strada no? e sono quattro bravi ragazzi noi ci usciamo insieme diventiamo amici ora se questi quattro ragazzi alla fine nella loro intimità nella loro nella loro camera da letto vanno a letto con un uomo con una donna con un transessuale con qualsiasi essere umano ma cosa ci cambia a noi fondamentalmente? ciao Tiziana Magri Silvana da Crema ciao certo che ti leggo però c'è ancora gente che la pensa così io vi adoro lo so quello lo so è inutile essere ipocriti quello lo so ovvio che c'è gente che ancora è abbastanza bigotto come modo di pensare ha una mente chiusa ha i parocchi come cavalli certo ancora ma quello esisterà sempre anche noi ci ritroviamo qua nel 3.021 e noi parleremo sempre di questo certo no non li salto ragazzi a volte ti tocca non li passa non salto io messaggio a volte ti tocca fai scherzetti che non li passa ma non sogno io ve lo giuro certo io vi leggo su Viviru vi leggo grazie Laura che era bello una volta che facevano le cose di nascosto addirittura si sposavano e poi andavano brava brava Francesca brava ma anche oggi non una volta anche oggi è così anche oggi si sposano per la società si sposano per la famiglia e poi rendono queste donne infelici io parlo dell'omosessuale uomo perché poi vanno a cercarsi scusate l'espressione era scopata in giro omosessuale quindi se vanno a fare i loro porci comodi con un altro uomo perché è quella la natura la vera natura che tendono a seguire però poi per la società tornano a casa dalla mogliettina ci sono i bambini ma non è perché ragazzi la natura non si può reprimere se la tua vera natura è quella non la puoi reprimere prima o poi uscirà fuori quindi sarà peggio perché ti senti male con te stesso tu reprimi quello che sei non stai bene con te stesso prima o poi esce fuori grazie Rino Rino ho preso te ma il discorso in generale no Rino no ti sbagli anche qui non è questione di essere viziosi o no non è questione di vizio è questione di seguire la tua natura perché se io mi sposo solo per far contenta mia mamma mio papà la mia famiglia la società in cui vivo i miei vicini di casa allora io mi sposo con una donna solo per far felice il resto del mondo ma la mia natura è quella di amare un altro uomo fare sesso con un altro uomo fare l'amore con un altro uomo è normale che poi devo andare a seguire il mio istinto naturale il mio istinto naturale qual è? andare a cercare un altro uomo ma dove? essendo sposato con una donna per la società me la devo andare a cercare fuori dal matrimonio quindi non essere viziosi è seguire il proprio istinto naturale che ho represso facendo un matrimonio finto tra parentesi ma sai oggi molto più aperta sei un grande vi seguo perché siete molto reali ma i volgari grazie Francesca ciao siete magnifici bravi davvero siete liberi di essere ciò che siete ragazzi grazie 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 belli io tra poco mi ne vai a mangiare perché scelto perché il mio pesciolino sarà pronto ognuno è libero di fare ciò che si vuole brava Tiziana ognuno nella propria camera da letto fa quello che vuole con chi vuole poi le persone si devono conoscere al di fuori della camera da letto al di fuori dei gusti sessuali non ci interessa io conosco Angela io conosco Angela è una mia collega di lavoro a me non mi interessa Angela che gusti sessuali ha io devo conoscere Angela persona non Angela con chi va a letto non mi interessa a me e tutti dovremmo fare questo pensiero penso ciao nonna Vanessa o no ti sto salutando da un po' ma non mi saluti più ciao di dolla senti ho togliato il manduccio stasindendo caccia figlia scelto che sta preparando perché io sogno qua con voi ma è giusto sta preparando grazie per i 60.000 like ragazzi continuate a fare così tap tap a meno chiudo con 100.000 a meno scelto a meno tiktok ricimaccia piace la live di Nunzi è piaciuta scelto grazie Stefania no Rino domani domani collegati su facebook alle 22 lo vedi su tutti non ci fosse una condizione se tutti non si facessero condizionare quanto saremmo più felici brava Eleonora brava brava comunque veramente sul ragazzo di cuore non c'è dai primi video col conte più amato grazie Miriana bella ma tu ci sei umittista tu sei mungisti o sei convinta che l'hai messo e niente Angela è meraviglioso questo pensiero penso ciao nonna Vanessa o no ti sto salutando da un po' ciao Elisa stacco di cucinare arrivi a 100 va bene sole e luna ti saluto devo andare a cucinare salutami il conte ciao Francio che te lo saluto mi mando un saluto ciao Lidia vabbè ragazzi io ho quasi un'ora che sono collegato qua quindi tra poco scappo anche io perché voi state andando a preparare io voglio direttamente a mangiare qua mangiamo come le galline noi bello presto ciao Francesca bella magari tu sei bella scelto bella donna annunzio dopo collegati su facebook che ti farei quattro risate nel video dove hai risposto all'arizzotto ma perché ti iscrivisti paratore che hai iscritto ah ci sono commenti scelto immagino vabbè dopo ci vado va bene ragazzi siamo a 65.000 like almeno fatemi chiudere a 100.000 like buonasera a Borriello me la canti una neomelodica di conna però ma chi ti è cantare Francesca non li saccio io io gliele canto ora ultimamente al conte che è il conte è innamorato delle canzoni neomelodiche cioè mi sta a fare l'icona di lontano perché è innamorato il rommetto neomelodico scelto ma il conte ha scoperto una vedi ha scoperto una cosa che non sapeva che gli potesse piacere così tanto il neomelodico scelto però ci piacciono di più le canzoni quelle d'amore quelle dove si parla di tradimenti di conna tipo chi deve vivere sotto a bacconi chi da spette gioletto chissi sui canzoni che ci piacciono con il conte scelto grazie a te grazie a tutte le persone che mi hanno seguito siete stati più di 300 grazie belli sole e luna forza come ti stagavo i tu elisabetta buonasera io mi stanno andando a mangiare è la sua fila scelto che la mia fila ti viro e man ti viro e mannamoro ecco te l'ho cantata e qual è ti viro e mannamoro no io conosco chi è il ridoliette me sporche russette poi con una bugia perché dice era in gioletto un uddau di russette e poi con una bugia non sa Giosinnino non sa comunque sono le canzogene di tiktok che io ho messo a memoria scelto allora scelto è nato è nato così in una live allora molti mi scrivono sei la copia di una ragazza qui che si chiama francesca su tiktok che dice scelto anche lei però c'è una differenza sottile che io il mio scelto l'ho cominciato a dire nelle live prima dei video e poi ho visto che piaceva questa parolina quando io la dicevo cioè lo lo scrivevano le persone e guarda caso poi ho cominciato a sentirlo anche su tiktok quindi io a diventare la copia di id però non vorrei dirlo ma quando ancora lei forse non esisteva su tiktok che io già lo dicevo nelle live scelto giusto francesca salici tu che mi segui di in poco io ti saluto non ci devo andare a cucinare buonasera ciao silvana da crema belle va bene ragazzi io sono a 70.000 like se mi volete donare altri 30.000 like facendo così nello schermo io giuro e non mangio bella spicola bella fatta dal conto non potete capire quello che è comunque sono volete venire paratore su voi venire una bella spiega io vi amo no io vi seguo io vi amo no grazie francesca magari io ti amo ma tu seguimi ti sto fai finta magari tu no perché qua ci sono tutte le persone che mi dicono ma io vi amo ti adoro meravigliosi belle poi i profili segui manca a morire i amici sono giunati che non sanno unilano a mettere niente così noi ci troviamo in questa condizione che tutti si ci amano siamo meravigliosi stupendi niente segui niente scelto arrivo ma devo portare Arturo scelto che l'ha puttato prima Arturo l'ha puttato no io seguo amo sto scherzando lo so che ci sei scelto che l'ha puttato prima l'ha puttato Arturo e poi vieni tu scelto perché vieni senza Arturo sei live da parecchio sia analista da oltre un'ora però siccome tu sei imbegnata e mi stai amando di meno mi stai trascurando e quindi te ne accuggiste solo ora ma mi pare giusto perché ognuno ha i suoi amori vuol dire che io non sono al primo posto nella classifica degli amori della tua vita scelto ti ho appena schiacciato il naso grazie Elisabetta vado a ubriacarmi Giada buon per te Gioia non ti ubriacare assai non ti mettere alla guida ubriacati tuo cookie che ti posso dire ciao Giada tolio bene Gioia ciao Paschi Michael ciao va bene ragazzi qua ho taa 100.000 non mi ci fate arrivare siamo a 76.000 non c'è 24.000 e chiudo la live vi amo ve lo prometto chiudo e mi levo la menza peri se mi fate arrivare a 100.000 cuore io ti amo troppo è solo un periodaccio ma non ti amerò mai di meno eh Borriello io ti seguo e non sogno un giunata non lo so non lo so Miriana dopo controllo appena non hai miso segui scelto mercoledì vi avevo invitato al mio compleanno ma Maglio mi ha detto che eravate impegnati Diego Rebitotta ciao Diego si eravamo impegnati ma su Ricidio scelto eravamo impegnati ma Idro dirissi che eravamo impegnati ma scelto su Ricidio tu credici eh no non puoi entrare allora Diego ti saluta aspetta sto entrando per saluto no non hai salutato i tuoi follower manco per Diego Diego ti saluto io piglio ti mando a salutare però siccome non è voluto entrare per tutta la live perché oggi si seccava un pochino non per i follower perché lui li ama follemente però è a cussi infreddolito e lui dice ora sto entrando per salutarlo no la legge vale per tu sei d'accordo con me Diego ti mando un bacio io e un bacio per lui belli comunque noi eravamo impegnati detto da Maglio abbiamo fatto la live sì ciao ragazzi però mi conosce da una vita ma chi Maglio scelto sape ah lui ti conosce da una vita scelto ah ah dice che andavate a giocare a pallone no tu giocavi con Maglio e lui ti accompagnava mi sta dicendo vabbè comunque ah guardava le partite scelto qualcosa faceva suo papà suo papà si capi che è suo papà idro è scelto fino a prova contraria è suo papà Diego sto giocando penso che l'hai capito che sto giocando va bene ragazzi siamo a 82.000 like ne mancano 18.000 tu a riri Diego caccia di chiangiri siamo ne mancano 18.000 per arrivare a 100 il nick si chiama Diego Rebbi con la Y totta totta come torta senza R con 2T no saccio perché comunque io e il conte ci passiamo 30 anni perché io ne ho 48 lui 78 infatti quando accompagnava a Maglio e a Diego a giocare a pallone già il conte aveva tipo chissà tipo 48 anni scelto tutto nito però no non sta a caso sono le mie ah nella foto profilo lui ha le sue figlie dice se tu apri la foto c'è lui con le sue figlie io non la posso aprire mi pare ora aspetta vediamo questo perché lui aveva detto che non ci rimane anti-sof ah a proposito ora tu sei comunque il signor Maglio che tu il tuo amico del cuore ci ha detto noi abbiamo chiesto ma dove ci segue lui no lui diceva anti-social che tu non avevi social dice solo su youtube sin tanto youtube è un social ma sto vedendo che hai un profilo tiktok molto scelto comunque ci attirare a ricchi perché ci dice bugia a noi bugia a te niente non ci fidiamo più di questo Maglio noi basta non c'è mio né dubbi di no Annalisa stava schizzando un po' riello buonasera prezzavento così mi sono collegato perché mi mancavi tu disse ora mi collego ci stava prezzavento ma tu niente sei entrato solo ora che sto chiudendo siamo quasi a 100.000 like siamo a 90.000 like Diego tu hai rire c'è di chiangere c'è tu e mi dissi sei anti-social e poi ti trovo io scommetto che hai anche instagram e facebook e io mi dissi no è anti-social e io dici mi seguo a stento su youtube a cos'è mi dissi non lo so se se l'ha inventato lui o gliel'hai detto tu però ah ah solo ti tocca a meno comunque non lo difendere non lo difendere chi più in mia hai magari instagram e facebook questo lo tocca tu lo sta definendo ora certo no c'ha ttoc dice youtube no youtube si certo lo guarda come tu complimenti per le bimbe complimenti per le bimbe io non le non le vedo da qua perchè non la posso aprire mi chiamo marco mi saluti sono un tuo fan ciao marco c'è un mio fan è forte da dire da sentire un mio fan però scelto un bacio a tutti e due mi deve dire grazie sorbiate vabbè ragazzi siamo a 93.000 like 93.000 7.000 tap tap forse forse più la like allora però io sono quasi offeso da voi e voi mi dite perchè perchè eravamo a 50.000 like e ho detto ragazzi sbrigatevi fatemi arrivare a 100.000 così mi nua io mi lavoro a me in 6 peri c'è in un minuto se arriviamo a 100 e non c'è così si nua chi sto no vabbè una fan è scelto un fan è scelto per chi Ilaria che ci vuoi dire ciao marco casablanca 3 è un mio fan è scelto perchè mi fanno male proprio passare solle luna continua tanto stiamo chiudendo ormai tu continua usa l'altro dito ne hai 10 ciao da fine comunque Diego il prossimo compleanno io mi auto invito io per mangiare bella totta belli chissà che hai fatto tavola calda a me non c'è tu magari tu ti dici che siamo impegnati tu non ci credere scrivi qua su tiktok a mia youtube a mia e mi inviti che io vengo lascio lui il tuo idro non mi invitare tramite lui picchinendi io ho 3 account ti seguo in tutti grazie marco però a me tu segui marco non è che ti dici io ti seguo con la bocca devi segui devi mettere il segui io sto usando anche le dita dei piedi grazie Nadia siamo a 99 e 5 mancano 500 like forza e chiuro io vi seguo da poco tempo e già siete diventati simpatici per me grazie Tiziana come come si fa marco devi entrare nel nostro profilo sotto la nostra foto c'è scritto il tasto segui già ne segui tu 23 quindi vuol dire che già usa facile ha miso all'outre a mia non già fai a mettere a mille agli altri si annuncio stasera sei di grande fratello vero e stasera c'è grande ingresso scelto paratore coso vedi quell'ingresso grazie claudia ce l'hai messo marco per ora lo devi andare a mettere anche negli altri profili se sei un mio fan hai tre profili vai negli altri due metti sempre segui scelto e ti sto salutando marco casablanca 3 ma ora mettimi segui da casablanca 2 e da casablanca 1 scelto buona serata sei grande io ti seguo tu no e io no perché non posso seguire a tutti ragazzi annuncio mi gonfiò la mano va bene ragazzi siamo arrivati ok siamo a 105.000 like quindi vi meritate un grosso bacio sei il mio idolo mi scrive marco casablanca grazie marco scelto casugnuto idolo e non solo il tuo pensa quante persone mi 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 guardano come suo idolo scelto e dopo questa di marco che io sono il suo idolo posso ritirarmi nelle mie stanze forse sogno molto casugno 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 va se che ogni casugno brava Lorena comunque io mi posso anche ritirare nelle mie stanze come non ti prego e me la devo andare a mangiare tu sei entrato ora perché? perché tu non mi seguivi non ti è arrivata la notifica se tu mi seguivi già da prima che sono il tuo idolo e tu mi seguivi ti arrivava la notifica stavamo due ore insieme ora tu se sei veramente il mio idolo marco che devi fare se tu hai facebook vai su facebook cerchi i morti di fame trattino sicilian edition nella nostra pagina metti il segui e domani saremo in live io e il conte dalle 22 alle 24 così domani di nuovo al tuo idolo cioè a mia mi viene un altro dar dar scelto comunque ragazzi buonanotte buonanotte buona serata buona cena io vi amo lo sapete ci vediamo domani Diego no saccio successivo comunque ti ripeto non scudare più a chiggio niente ci vediamo domani in live dalle ore 22 alle 24 su facebook come io domani ve lo ricorderò con un video il conte vi saluta e vi ama mi sta dicendo che vi amo troppo innamorato di voi e vi mando tanti barri vero no no vabbè si scelto e niente a domani ah vi sta salutando scelto a suo manue scelto è lui a domani buonanotte buona serata buon grande fratello e buon ingresso d'Italia Duran scelto marco mi raccomando metti mi segui anche dal 2 e dal 1 dagli altri due profili mi raccomando basta con sta mano a domani scelto aspetta che non riesco a che a domani a domani a domani a domani a domani